design e contract soluzioni forniture e allestimenti nel residenziale hospitality e retail questo è il titolo del convegno che ha avuto luogo a milano giovedì 15 febbraio presso il palazzo delle stelline convegno di info progetto organizzato da action group editore all'evento hanno partecipato 500 architetti e molte anche le aziende presenti che hanno avuto modo di presentarsi e presentare i propri prodotti io credo come dicevamo prima durante l'incontro che la formazione in italia ma soprattutto a milano quasi ti porta ad essere internazionale perché milano è sempre stato come tutta l'italia crocevia di cultura e così via poi noi siamo di fatto molto curiose e quindi sono sempre sentito pronto a muovermi e a viaggiare quindi questo consente di avvicinare gli altri cercare di capire come pensano come si organizzano e nel caso del progetto come agiscono come si muovono visto che il tema era quello del retail e di fatto dello spazio da destinare in qualche modo anche alla vendita mi sembrava che fosse potesse essere interessante discutere su come in qualche modo l'architettura possa innescare il desiderio di chi per esempio la utilizza è un format molto interessante oltretutto mi ha lasciato in prima persona molto stupito perché durante la presentazione abbiamo dato anche qualche accenno di prodotti non strettamente legati al mondo dell'architettura come possono essere le scatole abbiamo presentato una nostra novità del 3x4 e abbiamo ricevuto un sacco di richieste domande proprio anche su questi elementi quindi diciamo che abbiamo presentato a un pubblico molto più vasto e forse prima non avremmo mai pensato di colpire con questo tipo di prodotto ma solo con determinati prodotti è la nostra prima esperienza con il progetto sicuramente abbiamo incontrato nell'arco della giornata di oggi dei professionisti che troveranno in noi un buon consulente per la realizzazione come dicevamo prima di dei prodotti personalizzati che oggi sono il futuro laddove non perdono di prestazioni di qualità restano prodotti a tutti gli effetti di alta gamma ma si declinano in base alle esigenze dei progetti sono eventi versi quali noi propendiamo e che riteniamo assolutamente molto interessanti e molto formativi per il mondo progettuale l'azienda da sempre ha avuto una connotazione fortemente ispirata da designer da architetti e quindi ci fa piacere venire in questa location per incontrare una un'audience di architetti che sono i nostri interlocutori privilegiati i nostri partner ideali per sviluppare progetti di arredo